Emanuele è sempre un piacere vederti siamo qui a Gorla minore con quali cavalli sei venuto Emanuele? Sono qui a Gorla con due cali di sette anni, una cala di otto anni più Carlotta e Chalut. Quindi adesso vediamo tra poco la 150 fasi con Carlotta. Sì, Carlotta ieri è stato molto bene nella gara a tempo, nella ranking, è tempo più veloce, abbiamo fatto un errore in mezzo alla doppia gabbia, speriamo oggi che vada meglio. Il Chalut lo vediamo invece domani in Gran Premio? Sì, domani farai Gran Premio in preparazione a Sert Hockenbosch settimana prossima. Ok, con Chalut abbiamo sempre il sogno olimpico, speriamo di vederti, sperando anche che si tengono le olimpiadi, speriamo di vederti con Chalut. Se tutto andrà bene, speriamo di sfida. La tua meravigliosa bambina l'hai lasciata in Germania? Sì, lei adesso ha da fare, ha un cavallo anche da montare sui suoi poni, quindi è molto impegnata. La seguiamo con passione sul suo profilo Instagram che è seguitissimo e quindi ci fa piacere seguirti. Con un cavallo in famiglia hai un pubblico che ti segue appassionatamente, vuoi lasciare un saluto ai nostri lettori, ai nostri amici, ai soci? Ciao a tutti, grazie per il supporto. Grazie Emanuele e viva il lupo! Grazie, ciao!